Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un Dipartimento della Fondazione Inaudi di cui sentivamo la mancanza e che ci era stato richiesto da più parti, soprattutto in questi ultimi mesi, è il Dipartimento delle Relazioni Internazionali per cui insegue corteggio, nonostante i miei gusti, da prima dell'estate, un signore che è qua in prima fila e che ringrazio vivamente e di cuore per quello che ha fatto, per quello che sta facendo per noi, per aver accettato il compito di presiedere il Dipartimento. E' l'Ambasciatore, Ministro e quant'altro Giulio Terzi di Sant'Agata che è qui con noi e che ringrazio ovviamente della sua presenza. Abbiamo da prima dell'estate ipotizzato l'avvio di una collaborazione, ci siamo incontrati chiacchierando e discutendo di un'iniziativa di cui credo poi vi parlerà tra l'altro Giulio Terzi, che riguarda gli ultimi anni di vita poi di Marco Pannella, è un'iniziativa molto importante di livello internazionale e transnazionale che Giulio sta facendo e che ha cominciato quando Pannella era in vita e che sta proseguendo anche nella memoria, ma di questo poi parlerà lui più propriamente e più di quanto posso fare io. Ringrazio l'altro amico che poi ha consentito non solo la realizzazione della giornata, ma la strutturazione del Dipartimento di cui vi parlavo, e del Professor Marino De Luca, che dirige il Dipartimento, lo sta facendo egregiamente, è un vulcano che riesce a mettere in crisi tutti noi per la mole del lavoro, anche la qualità, devo dire, del lavoro e le metodologie con cui affronta le sfide. Ha creato un gruppo, è qui presente, grazie a Capone, che in questo momento non vedo, ma era qui, ha creato un gruppo di lavoro con Grazia, con altri amici, certo Marco che non conosco, voi me lo presenterete da me, e hanno dato l'avvio a questo evento, che ripeto, il primo pubblico, è l'evento di presentazione del Dipartimento delle Relazioni Internazionali. Hanno scelto loro questo titolo, Politica Internazionale e Investimenti Esteri, nel nuovo quadro euro-atlantico. Una volta, quando ero ragazzo, su qualche secolo fa, si parlava dei rapporti atlanti, ci dividevamo in Italia tra chi era atlantista e chi no, c'è la Boni, chi era a favore del rapporto privilegiato Europa-Stati Uniti e chi invece non lo era e si opponeva. Oggi non so se ha ancora un senso con quello che è avvenuto in questi ultimi mesi, parlare di rapporto euro-atlantico. Lo vedremo, ascolteremo, ascolteremo prestigiosissimi relatori che sono qua, con Dominic Salvatore abbiamo ricordato anche le comune esperienze alla LUM, all'università, dove abbiamo insegnato, dove lui continua ad essere professore metto. Dicevo, non so se ha ancora un senso, non so se ha ancora un senso, soprattutto guardando all'orticello di casa, e l'orticello di casa nostra, in questo caso non è l'Italia ma è l'Europa, è un'Europa che sta vivendo dei momenti molto particolari. Ieri c'era una fotografia dell'Europa e del momento che sta vivendo, era la fotografia di quattro primi ministri, del primo ministro italiano, di quello tedesco, di quello spagnolo e di quello francese, e credo che quella fotografia era visivamente il segno della crisi che sta vivendo l'Unione Europea. Perché quattro primi ministri, dei quattro stradi più popolosi, non dicono neanche più importanti, forse anche più, ma sicuramente più popolosi, non c'è più perché è andata via la nostra amata Inghilterra, si riuniscono prima per poi andare a parlare con gli altri ventiquattro. Io la faccio breve perché non è mio compito affrontare questa sera questo problema, ma voi vi rendete conto, senza bisogno di tanti parole, che se quattro si devono riunire per poi andare a parlare agli altri ventiquattro e spiegare che quello che sta succedendo e quello che si deve decidere da qui a fine marzo è capire a quale Europa vogliamo. Ecco, credo che la crisi sia di tutta evidenza. Quale Europa voglio io? Quale Europa vogliamo noi? Lo dico chiaramente. È una scelta senza sé e senza ma, quella di un liberale storico come me. È quella di più Europa. È quella di uno sviluppo ulteriore delle istituzioni europee perché per quanto ci riguarda l'incompiuta è questa Europa e noi crediamo che i problemi e le crisi che vive questa Europa sia dovuta al mancato compimento di un contesto istituzionale che possa reggere un sistema di paese, un territorio come quell'europeo. Poi, per carità, ci sono altre visioni. Magari ne sentiremo parlare stasera. Le cosiddette visioni sovraniste. Ci spiegheranno i sovranisti come possiamo fare a sviluppare, a sopravvivere, a vivere e a svilupparci. Alcuni dati ci dicono che probabilmente la ricetta non è quella. La Camera di Commercio americano presso l'Unione europea ci dice che dal 1990 al 2015 il mercato unico europeo ha aumentato il prodotto interno nord dell'intera Unione dell'1,7%, mentre il PIL pro capite di ogni cittadino europeo è cresciuto di oltre 1.000 euro l'anno grazie agli effetti del libero scambio. In questi giorni la Commissione europea ha rilasciato un libro bianco sul futuro dell'Unione, in cui si disegnano quei cinque possibili scenari dall'ipotesi minima a quella massima di integrazione europea, per cui si capisce e si intende che probabilmente i quattro paesi di cui parlavo prima si pongono più o meno a metà tra le due ipotesi. Ma è possibile un'Europa a doppia o a tripla velocità? Non ho le competenze, sinceramente, per dirlo. Ho qualche dubbio. Come prima vi ho detto, io credo che la ricetta rispetto a questa Europa e a tutto quello che non funziona, lo sappiamo, sappiamo quali sono i problemi e i difetti. Mi viene un po' da ridere, devo dire, quando qualche francese ci spiega che non è possibile tenere in piedi in questa Europa, e questo è uno dei motivi per cui non funziona, la sede di Bruxelles e quella di Strasburgo. Certamente. Diteci dove dobbiamo mettere la firma per chiudere la sede di Strasburgo. Sappiamo perché la Francia ha dovuto, ha voluto e ha dovuto fare nascere quella firma. Ma poi la Le Pen dice no, ma il problema è che c'è pure Strasburgo e dunque è quel segno di un'Europa che non funziona. Tante cose si possono fare per migliorare questa Europa, però crediamo fortemente che siccome negli ultimi 70 anni sono stati i 70 anni in cui una cosa non abbiamo vissuto, la nostra generazione non ha vissuto rispetto ai secoli precedenti, tutti in cui i 70 anni non ci sono stati di mancanza di guerra, ecco in questi 70 anni non abbiamo vissuto guerre interne all'Europa. Io credo che questo sia un dato di fatto difficilmente contestabile, come credo che il rapporto fortissimo che ci ha legato e deve continuarci a legare agli Stati Uniti d'America, indipendentemente da chi protempore il Presidente, eccetera, sia una garanzia di un equilibrio mondiale. Che sono consapevole, ce lo diranno i nostri relatori, come si sta sviluppando i rapporti della Cina con gli Stati Uniti, i rapporti con la Russia, comprendiamo bene tutto questo, però crediamo anche che questo legame tra Europa e Stati Uniti possa essere la saldatura che poi consente tutto il resto. Se questo legame andrà ad inclinarsi, io personalmente sono molto, molto preoccupato. Ecco, i 55 anni trascorsi dalla nascita, dall'avvio della nostra fondazione, ci inducono a dire e a ritenere che forse tante cose sono cambiate. Sicuramente Croce e Inaudi, i maestri del pensiero liberale, avevano davanti un altro mondo, avevano davanti una storia, oggi in quello che non possiamo... il secolo precedente è stato definito il secolo breve, quello attuale preferisco chiamarlo il secolo istantaneo, dove schiacciando il tasto di un computer si può fare di tutto. Ecco, però io credo che la forza del pensiero liberal democratico sia quella anche e soprattutto di saper interpretare i cambiamenti, adattarsi e anche guidare determinati cambiamenti. Ecco, questo è quello che appunto in un mondo in continuo cambiamento vogliamo così immodestamente contribuire a fare, con iniziative di questo livello, di questa portata, perché no anche con chiacchierate più ristrette, con Giulio Terzi che ci dirà, ci illustrerà e ci spiegherà tante cose, tante cose che sarà possibile fare, perché magari le chiacchierate tra amici, le chiacchierate ristrette, consentono poi di immaginare, di studiare, di programmare, di progettare, di progettare il nostro futuro. Io voglio finire questo mio brevissimo intervento con due annotazioni. Tra pochi mesi ci sarà il congresso di una istituzione che è stata voluta e guidata per tanti anni dallo stesso signore che ha voluto la Fondazione Inaudi, il signore si chiama Giovanni Malagodi, che è stato per tantissimi anni il Presidente dell'Internazionale Liberale. Rispetto agli ultimi manifesti, all'ultimo manifesto di Oxford, a distanza di tanti decenni, il prossimo congresso dell'Internazionale Liberale riscriverà e proporrà un nuovo manifesto, che probabilmente non sarà a Oxford, ma sarà ad Andorra, dove si celebrerà il congresso. La Fondazione ha dato un contributo all'elaborazione di questo manifesto. Saranno le linee guida del liberalismo del nuovo millennio. Ecco, io, oltre ad aver dato, oltre ad aver contribuito a dare quel contributo, credo che questa rete estera che abbiamo creato possa ulteriormente spingerci e spingerci ad andare avanti. Ho visto oggi una bella pagina, bella non per il contenuto, ma graficamente bella del Corriere della Sera, che forse il mio predecessore, l'attuale Presidente dell'Onore, Mario Lupo, che ringrazio per essere qua, avevo avuto anche lui modo di leggere. Caro Mario, tu non so se hai visto oggi il Corriere, in quella pagina c'erano più di venti fondazioni, con il nome, con il logo e con il riferimento politico, politico-partitico di ognuna di quelle fondazioni. E con quello che si diceva, per cui queste fondazioni servono, eccetera, probabilmente, anche legittimamente, a finanziare la politica. in quella lista noi non c'eravamo, noi non c'eravamo perché non ci vogliamo stare. La fondazione Inaudi è quella, è quella di questa sera. Grazie.